Ciao a tutti! Questo video è un video recensione della 30 days extension, quella versione note di chicco. Io l'ho comprata un po' dubbioso, però si è veramente rivelato un fantastico affisto perché veramente allunga le ciglia, o le fa crescere perché questo è, non so se lo vedete, sembra che ho un mascara, un mascara normalissimo, invece no, sono le ciglia normali, anche sotto, se le vedete, sono molto più lunghe. Se andate a vedere i video vecchi ve ne accorgerete perché io la maggior parte di me sono struccata o poco truccata, questa volta struccata perché ho fatto la skincare routine. Comunque io ve lo straconsiglio perché ha un prezzo, se l'ho trovata in offerta come ho fatto io, ha un prezzo veramente vantaggioso e funziona. Io adesso volevo provare anche la versione quella giorno, quindi usarle tutte e due, però non lo so. Comunque credo che quando finirò questa la ricomprerò e non so se è merito del valore di ricino combinato a questo che ho avuto questo risultato o se io partendo da una base abbastanza normale. normale, io ho sempre usato l'aloe vera, l'aloe vera, l'aloe vera, le sopra ciglia, poi a volte ho usato altri mascara, c'era anche quello della L'Oreal che non fanno più, quello che allungava le ciglia, quello che funzionava l'anno tolto dal mercato e non l'ho più trovato e usavo l'olio di ricino. adesso usando l'olio di ricino è questo, la scatola è usurata perché ce la do un po', ho un effetto fantastico, ho una base perfetta per le ciglia. comunque le ciglia sono molto lunghe, so se le vedete, di qua si vede, sono lunghe e incurvate. io non ho usato Pegacia, non ho usato mascara, quindi è fantastico e niente, io ve lo sto a consiglio perché ha un ottimo prezzo, è facile mettere per i miei, perché il Kiko ormai è ovunque, poi anche con il sito online è volato e funziona, funziona. certo non avrà un inci fantastico, però io adoro la Kiko, quella Kiko, se non sapete è nickel tested, io ho sempre adorato Kiko, da quando la conosco l'ho sempre adorata. questo è questo fantastico, non ho questo fantastico, l'avevo visto da Delany, che non era qui su Youtube, che l'ha saluto, e non so se lei ha fatto l'aggiornamento del risultato, se su lei ha funzionato oppure non lo so, però su di me ha funzionato tantissimo. quindi a tutti pro, non ha nessun contro, e niente, io ve lo consiglio, non ve lo consiglio, io ve lo straconsiglio, perché a tutti pro, non ha nessun contro, non irrita, non irrita assolutamente le ciglia, gli occhi, non irrita assolutamente l'olio di ricino, se lo volete utilizzare, fate attenzione, perché se va negli occhi brucia tantissimo, comunque questo io ve lo straconsiglio, e credo che appena finito lo ricompero, se non volete usare l'olio di ricino, usate questo sia notte che giorno, quindi siete a posto, e le vostre ciglia cresceranno per davvero. e niente, questa era la mia recensione del Kiko 30 Days Extension Night Treatment Booster, è nato un nuovo amore, quindi lo ricomperò a vita, e niente, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like e un commentino, se avete mai provato la mascara per le ciglia sopracciglia, se l'avete provato, e magari non vi è piaciuto, lasciate un commentino, iscrivetevi al canale perché, perché sì, ma perché mi fa molto piacere, e niente, io vi mando un grosso bacio, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao! Ciao!